Andiamo ora a fare delle decorazioni con uno zucchero particolare, l'isomalto. Versiamo l'isomalto all'interno di HotMix Pro impostando la velocità al minimo e la temperatura a 150 gradi centigradi. Non appena l'isomalto sarà sciolto, versiamolo sul ghiaccio di un recipiente. Una volta solidificato, sarà possibile liberare dai ghiaccio cristalli dalle forme più svariate, utili per decorazioni di grande impatto.